Lunedì attorno alle 16.30 il numero di emergenza della polizia al 113, centro di comunicazione operativa della polizia di Nuova Goriza, ha ricevuto una chiamata da un cittadino che chiamava da una delle frazioni del comune di Comen. Durante la chiamata ha chiesto urgentemente l'intervento di una volante, dato che secondo sua descrizione si trattava di una vera e propria tragedia. Il cittadino ha detto che all'indirizzo da cui stava chiamando c'erano due corpi, vale a dire il corpo del fratello e della nonna. Nessun altro dettaglio è stato poi riferito al telefono. Gli agenti di polizia all'arrivo nel cortile di una casa di residenziale hanno identificato il chiamante e confermato alla centrale la presenza di due corpi senza vita all'interno dell'appartamento. L'uomo è stato arrestato immediatamente. Ulteriori indagini su quanto è accaduto sono state portate avanti dalla polizia criminale di Capodistria assieme al pubblico ministero. I magistrati hanno poi effettuato un sopralluogo e tutto si è concluso ieri sera. L'appartamento permane comunque sotto sequestro. L'autore del reato ha usato un'arma contundente per togliere la vita al fratello di 31 anni e alla nonna di 80 anni. Entrambi i corpi sono stati decapitati e le due teste sono state bruciate nella stufa di casa. Dopo aver commesso il fatto ha anche tentato di pulire l'appartamento. Nella giornata di oggi è stato nuovamente sentito l'uomo per riconoscere i motivi dell'insano gesto. L'accusa è doppio omicidio con aggravante e per ogni omicidio di questo tipo la legge slovena prevede un minimo di 15 anni di carcere.